Adesso io vi presento una signora innanzitutto, è una signora che ha scelto nella propria vita di fare una professione fondamentale. Siamo tutti venuti al mondo perché un'ostetrica ha dato una mano alla nostra mamma, la signora Liliana Evangelista. E' questa splendida signora che vedete, ostetrica, che lavora presso la casa di cura Santa Famiglia di Roma. Siamo nel rione Prati, giusto? Nel cuore di Roma. Nel cuore di Roma. Allora, nei giorni scorsi le è capitato di dover gestire un parto un po' diverso dal solito. Allora, intanto cominciamo a dare i numeri. Signora, lei dice di già. No, lei più o meno ha fatto un conto di quanti bambini sino ad ora abbia fatto nascere? Precisamente no. Però insomma ne ho fatti nascere. È una cosa che mi stupisce sempre. Ma non tenete un diario? No, di solito non teniamo questo, non portiamo. Ma più o meno? Intorno ai 4.000 potrebbe essere. Ai 4.000? Wow! 4.000 bambini. Ed è bella, è come cosa. È bella, sai. 4.000 bambini. E nonostante il suo fondamentale lavoro sia badare a tutto forché l'emotività, nel senso che voi siete in quel momento gli scienziati della nascita, no? Questo siete. Accompagniamo la nascita. Accompagnate la nascita. Però quando arriva sto pargoletto, è commovente l'istante in cui lancia il primo grido alla vita, il primo urlo, il primo pianto? Non lo so. Mi parto è sempre una grande emozione. Anche dopo tanti anni ancora mi commuovo davanti alla nascita, che è il vero miracolo della vita. È bella, eh? È un'emozione grande sempre e il primo vagito è il momento più bello. E caspita, deve sembrare proprio, oh, è una cosa, deve essere una cosa potente. Grande, molto. Parecchio, parecchio potente. Si commuove sempre. Lei mi ha appena corretto perché mi ha detto io accompagno la nascita, no? Qual è la differenza tra far nascere e accompagnare la nascita? È la donna che partorisce, la ostedrica accompagna alla nascita. Quindi questo è, mi piace molto precisare, questo è il nostro ruolo, quello di accompagnare una mamma durante le ultime fasi della gravidanza e al parto. E quindi, e fin qui, è, cioè fin qui, fin qui è e continua ad essere la vita di questa signora, cioè anche una precisione, no? Ha una capacità di spiegare anche a noi molto meglio delle nostre parole affettuose ma un po' affrettate. Finché? Lei stava quel giorno, dove si trovava? Guardatela intanto in questa fotografia, alla quale ovviamente abbiamo coperto i volto e i vivi. Questi sono tutti figli suoi, nel senso che sono figli della signora ostetrica? Sono tutti fratellini e cuginetti. Ma che meraviglia! Che ho accompagnato alla nascita. Vale, accompagna benissimo questa signora. Questa è la foto più bella. La foto più bella, no? Sì, l'assoluto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, saluti. Questo era l'invito al battesimo dell'ultimo nato. Che lei tiene in braccio. Che io tengo in braccio. È stato un giorno emozionante. È stato un giorno emozionante ma a proposito di giornate emozionanti, viene quella giornata in cui la nostra Liliana Evangelista si reca in clinica. Sì, mi rego in clinica e attendevo l'arrivo della Partoriente, non vedendola arrivare e essendomi reso conto che il traffico era intenso quella sera. Dalli col traffico ovviamente. Sì, perché era il venerdì del Black Friday e quindi in zona Prati il traffico lo è sempre intenso, quella sera lo era ancora di più. Negozi, sconti, eccetera, 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 traffico quanto ne vuoi. E quindi mi sono affacciata per capire se stesse arrivando. A un certo punto ho sentito delle urla provenire da circa 200 metri dall'ingresso della casa di cura Santa Famiglia e mi sono avvicinata velocemente. Anche qui ad una macchina? Alla macchina. Che doveva venire in calesse? No, in macchina. In macchina. E in macchina c'era? In macchina quando sono arrivata ovviamente la situazione era abbastanza complessa nel senso che c'era il marito agitato, lei continuava giustamente, anche perché era in una fase espulsiva, continuava a urlare e tanti erano i presenti, per cui anche imbarazzante sotto questo punto di vista. Quindi mi sono resa conto che tempo per entrare in clinica ormai non c'era e l'unica cosa da fare e quindi situazione che richiedeva prontezza era quella di assistere e comunque accompagnare questa nascita in macchina, esattamente in macchina. In macchina. Oggi abbiamo le macchine, i taxi, il traffico e le persone intorno che non gliene vogliamo, ma chiaramente da una parte uno vuole anche capire cosa sia successo, per carità. Molti erano curiosi e anche spaventati perché non capivano il motivo di questa reazione. E lei in macchina ha fatto nascere... Beh, diciamo che mi sono messa comoda nel senso che mi sono tolta il cappottino e innanzitutto ho tranquillizzato la parte oriente e senza presidi ho assistito, ho accompagnato questa nascita. È stato un momento meraviglioso. Sono riuscita, nonostante la situazione, a rendere il parto tranquillo per la signora e soprattutto a rispettare i tempi del parto, che è la cosa che va fatta sempre e che faccio sempre in sala parto. Aspetti un attimo, che vuol dire rispettare i tempi del parto? Rispettare vuol dire accompagnare, ma rispettare il disimpegno della testa, i movimenti che fa il bambino durante la nascita. Quindi non accelerare nulla, non spingere... Assolutamente. Quindi il parto è avvenuto in due tempi, vuol dire che nel primo tempo, quindi quando sono arrivata la testa praticamente era, diciamo così, incoronata, quindi vuol dire che stava quasi per uscire, insomma per essere chiara. Quindi in un primo tempo è uscita la testa, quindi ho tranquillizzato la parte oriente e invitandola anche a respirare e alla contazione successiva, quindi c'è stata la seconda fase, quindi il secondo tempo, in cui sono uscite le spalle. E una volta fuori le spalle? Fuori le spalle ho invitato lei ad accogliere la nascita fisicamente, nel senso che lei ha preso la bambina... Il tutto ha covacciata lei? Lei era seduta, io oltre a tranquillizzarla ho cercato di mantenere la massima privacy, perché comunque c'erano tante persone incontro, devo dire che sono state anche molto corrette e rispettose, perché hanno... si sono spostate di circa di qualche metro rispetto alla macchina. Però si, non sempre questo può capitare, non sempre può capitare, quindi grazie anche alle persone che si sono comportate così. Nel frattempo qualcuno è andato in clinica ad avvisare... Il papà. Che... ecco il papà l'avete... Il papà sempre, il papà che era agitatissimo... Via, via, così noi qui partoriamo con calma, tu sei agitato, giustamente, arrivavano da Rieti, avevano trovato un grandissimo traffico, è andato ad avvisare e quindi a quel punto... È arrivato tutta l'equipe della sala parto, il tempo che ha impiegato l'equipe a scendere sono stati circa due minuti, quindi in questi due minuti Ania è rimasta a contatto con il corpo materno, coperta e ancora attaccata al cordone ombelicale, quindi non è stato fatto subito il clampaggio, è stato fatto qualche minuto dopo. Lei ha usato un termine tecnico, il cordone ombelicale, lo ribadiamo, o va stretto e deve interrompere il proprio lavoro o viene tagliato? Prima il clampaggio e poi il taglio... E poi il taglio... Io non ho t'esperto... Mamma mia, meno male che non devo far partorire nessuno, sennò sarebbero dolori... E... Senta... Quanta emozione... Ma lei era mai capitato un parto così? Ho assistito... Diciamo che ho accompagnato altre nascite, mi è successo insomma all'ingresso della struttura, ma ero in divisa e con tutti i presidi necessari... Certo... Con il cappottino no... Questa volta invece no, ero in borghese vestita anche elegantemente e senza guanti... E senza guanti... E senza guanti... Ma lì in quei momenti non c'è tempo... No, certamente... Beh, poi insomma nessuno più di lei sa usare... E accanto, anche in questo caso, accanto alla partoriente c'era il primo genito di tre anni... Wow... Che ha assistito al... Al parto della sorellina... Devo dire, lui era molto tranquillo, non l'ho assolutamente visto agitato... Quindi lei gestiva un papà agitatissimo, giustamente, che ha mandato in clinica dire... Sì... Vado a chiamare... A sala parto... Esatto... Sostegno... Lei ha fatto partorire la mamma... La bambina che sta... Io ho accompagnato... Ha accompagnato... Tu ancora punizioni per me... Mi raccomando... Lei ha accompagnato la nascita di questa bambina... Io ho accompagnato la nascita di questa bambina... Col fratellino in macchina... Col fratellino in macchina... Ma pure lei categoria geni... Beh... Insomma, signora speciale però... Ma il mio compito era quello in quel momento di sostenere... incoraggiare... E far sì che comunque questo parto... Ci fosse... Restasse insomma... E avvenisse nel migliore... Il parto... Signora, abbiamo sentito poco fa un papà ingegnere... Il papà di Alessio e Chiara per Chiara è stato bravissimo... Ha saputo esattamente... Complimenti... Che cosa fare... Ovviamente complimenti a Elisabetta che stava partorendo... Complimenti a lei... Complimenti al papà... E anche alla nonna... Anche alla nonna... Che si fa in caso di un parto di emergenza? Cioè... Come non si perde la testa? Si telefona subito... Si chiede un'ambulanza... Si... Diciamo che in qualsiasi situazione di urgenza o emergenza... La cosa da fare innanzitutto è mettersi in contatto con il proprio ginecologo... Con la propria estetica... O... Se questo non è possibile... Un pronto soccorso estetrico... Il personale che risponde è sempre ovviamente personale... Certo, qualificato... Preparato... E ti può guidare... Che chiede delle informazioni cliniche... E dà le giuste e rapide indicazioni... Che possono cambiare da caso a caso... Signore evangelista... Lei è una persona splendida... Se lo lasci dire... Non credo di essere l'unica... A sottolineare questa cosa... Ehm... Dopo quell'istante che lei ha raccontato così bene... Quando... Oh... E sono vissute insieme per nove mesi, eh... Mamma e figlio... Però quel momento in cui te lo metti... Sul cuore... No? Lei l'ha più rivista poi... Ania... Li ha più rivisti? Io sono... Sì... Sono rimasta in sala parto con loro... Perché poi c'è stata la seconda fase... E quindi dell'assistenza alla mamma... Sì, sì... Ma quello è il giorno della nascita... Quindi sono rimasta lì ancora con lei... Intendo dopo dopo dopo... Il giorno successivo l'ho rivista... I genitori felicissimi... Eh... Ci credo... Mi hanno ringraziato ovviamente... Infinitamente... Non è rimasto Ania... Però ci sia stato un pensiero... C'è stato un pensiero... I prossimi bambini... Lei dice che ne so... Quelli che arriveranno... I prossimi... Allora... Loro hanno intenzione ancora di... No, no... I prossimi che fa... Che accompagnerà lei alla nascita... Per non trovare traffico... Ma nel caso... Liliana Evangelista... Sa... Esattamente... Che cosa fare... Grazie... Grazie a lei... Se non so quanto... Allora...